signore e signori aspetta lancio i bianluigi attenzione vale ce l'ho fatta l'hai preso madonna penso di si aspetta aspetta attivo guarda 19 si 20 vai 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 pallina gialla caramella gialla caramella gommosa landese guarda giorgio pronto attenzione per il l'ha quasi fatta palo palo secondo palo madonna sordo 2 attenzione terzo palo consecutivo ragazzo sfortunatissimo comunque complimenti per la fascia asseverta che furia dalla bocca roba attenzione al lancio proibito rossa 0 punti 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 6 5 6 6 8 9 9 10 10 10 11 11 12